Sono un bel gelatino, sono un bel gelatino, nananana 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 Ciao a tutti ragazzi sono SilverDX in questo nuovo video sono qui a giocare a... Stiamo parlando del gioco più aerodinamico, più figo, più potente per Android ragazzi Altro che Need for Speed Most Wanted, altro che Asphalt 8, altro che Real Racing 3 Cioè qua abbiamo davanti un gioco con i controcoglioni e muore Vai ragazzi potenziamo tutto, mamma mia Cioè guardate questa cacata di merda, questa merda cacata di merda Cade! È presente quella merda, cioè questa è proprio una cosa incredibile Incredibile, cioè ragazzi guardate, guardate Mamma mia, cioè Cade pure ragazzi, cade, cade pure e muore Uh che bello, uh le monete stavano là, porca Qualcosa, vediamo Oh mio Dio, questa è la migliore merda, cioè questa è la migliore Una gelatina ragazzi, che originalità Cioè è un gioco mistico proprio È un gioco fantastico Oh mio Dio, non cammina più Oh mio Dio La cosa più bella però è quest'altro Il gelatino Il gelatino ragazzi Il gelatino potente Il gelatino Cioè guardate la vasta gamma di gelati Per non parlare dello sfondo che si può sfondare e cambiare Cioè è una cosa incredibile Guarda Ah è fantastico Cioè è un gioco per veri pro-gay Pro-gay, no pro-gamer Pro-gay Perché ragga, perché ragga Mio Dio La mila dorata Ragazzi Questo è un ottimo È il gioco più bello che sia mai stato creato per Android Mai visto, cioè mai visto Mio Dio Cioè guarda Le nuvole Le nuvole ragazzi Le nuvole Mio Dio come salta Mio Dio Mio Dio Ragazzi per questo video è tutto Vi ringrazio per la visualizzazione e l'iscrizione del canale se volete E no Che cazzo c'entra Eeeh Ciao a tutti ragazzi Ciao 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 Sono una bella Rambi Ciao 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 ciao